Ciao ragazzi, benvenuti di nuovo al Bartasso, Giannicolo, sono qui per proporvi modi diversi di fare aperitivo rispetto alla mystery box che già conoscete. Quindi ci sono qui taglieri di salumi, di formaggi, tutto da ottima gastronomia italiana, le pizze, i tramezzini che vengono da uno dei forni più antichi di Roma e farciti espressamente da noi tutte le mattine. Inoltre volevo ricordarvi che per i vostri piccoli e grandi eventi Bartasso è qui per coccolarvi e consigliarvi nella scelta dei menù. Quindi non vi resta che venire nella location più suggestiva di Roma, prenotare il vostro evento e noi lo renderemo unico insieme a voi. Un abbraccio, grazie, ciao!